Mi ha mandato questa cartella, all'interno di questa cartella ci sono dieci filmati, quindi andiamo insieme a vedere le nuove dieci tecnologie che sconvolgeranno il mondo nei prossimi anni. Oh! AC Milan! Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Ci avevo voglia di girarvi questo video ragazzi, forse perché è il momento che c'è tutto completa piatta, mare completamente piatto, non succede niente, non arrivano giocatori, l'ambiente è in completo ribollizione perché non sta succedendo niente. Allora ci avevo voglia di venire qua a girare un video con voi, magari vi strappo qualche sorrisino. Allora, un sacco di notizie ragazzi, prima però vi volevo ringraziare perché l'altro giorno vi ho detto ragazzi, dai 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 che arriviamo a 25.000, in questo momento siamo a 24.890. Quindi mancano 10 iscritti per arrivare a 24.900 e poi solo 100 per poi fare la mega festona dei 25.000, dai ragazzi iscrivetevi, che non vi costa assolutamente niente. Tra l'altro, poi chiudo con le notizie di servizio, è uscito il nuovo video sul secondo canale, le dieci tecnologie che sconvolgeranno il mondo. Nel primo commento trovate il link, andate a vederlo, commento, iscrivetevi al canale, di là veramente siamo a un passo dai 10.000, grazie di cuore raga, non so come ringraziarvi. Mi seguite in tutte le mie pazzie, live, canali, secondi canale, grazie di cuore ragazzi, stiamo viaggiando veramente alla grande, grazie di cuore a tutti per il supporto. Allora, prima di entrare nella notizia di giornata, come sempre vi do una pre-notizietta. E la pre-notizietta qual è? Serie A 24-25, il calendario il 4 di luglio. Come comunicato dalla Lega Serie A, il nuovo calendario sarà svelato il 4 luglio alle ore 12. Tra l'altro ricordo a tutti, non fate come me, che ho prenotato le ferie dal 10 al 17 agosto, faccio una settimana in crociera, e il campionato di Serie A inizia il 18, quindi, meno male, pensavo iniziasse il 17, avevo già l'ansia, capito? Cioè, che arrivavo con la nave e dovevo andare direttamente a vedere la partita del Milan. Quindi ragazzi, prima partita di Serie A iniziarà il 18 di agosto, però sapremo contro chi lo scopriremo solo il 4 di luglio alle ore 12 e ci sarà appunto l'estrazione. Ma la notizia di giornata è questa. Milan, ecco Fofanà, ma addio ad Isma Benasser. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola, allora questa notizia si divide in tre notizie, ok? Questa news si divide in tre notizie, adesso ve le leggo tutte e tre. La prima è questa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, che ho letto questa mattina al bar mentre stavo bevendo il caffè, conferma tutte le news già riportate, cioè che Fofanà è vicinissimo a diventare un giocatore del Milan. Quindi il Milan è pronto per rifarsi il centrocampo. Il francese ha già salutato Monaco e preferisce i rossoneri alla Premier. Molto bene, benvenuto Yusuf Fofanà. Pronta un'offerta da 25 milioni di euro che il Monaco con tantissima probabilità accetterà. E Benasser, però, dove va? Potrebbe finire in Arabia. Adesso arriviamo alle altre notizie riguardo ad Isma. Una ricca proposta permetterebbe al Milan di rientrare dell'investimento per Fofanà e di risparmiare sui 4 milioni di euro di ingaggio di Isma. Si ascolteranno offerte anche per altri giocatori, come per Adlipo, Bega, eccetera, eccetera. Quindi il nuovo centrocampo rossonero probabilmente sarà composto da Yusuf Fofanà, Reinders, dietro a Ruben Loftus-Cic. Pulisic e Leao davanti. E speriamo che il numero 9 davanti sarà Joshua Zirze. Vi aggiungo dei pezzettini alla notizia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quindi un'altra notizia che conferma ancora di più. Fofanà è vicinissimo al Milan, contratto in scadenza nel 2025. Il giocatore e la squadra sono pronti a dire di sì al Milan e quindi il giocatore è pronto per sbarcare in Italia. In tutto questo, come vi raccontavo prima, c'è collegata anche la notizia di Isma Benasser. Perché? Come riportato da Pedulla, per Benasser ci sono diverse sirene arabe. Oggi ci sarebbe stato questo summit. C'è stato, lui dice che c'è stato, quindi prendiamo per buono ovviamente quello che dice Pedulla. C'è stato questo summit, tra l'altro, della durata di 4 ore. Quindi anche la durata, lui ci spoilerà sta cosa. Il fatto che il summit sia durato 4 ore vuol dire che qualcosa c'è. Qualcosa in pentola sta ribollendo. Perché se fosse un summit da 4 minuti, ciao, vuoi venire da noi in Arabia? No, ho finito. Invece il fatto che abbiano parlato per 4 ore, gli agenti e questi emissari delle squadre arabe, vuol dire che, ripeto, qualcosa comunque sta succedendo. Se no non stanno lì 4 ore, 4 ore a parlare. Vabbè. Allora, concludo. Vabbè, Yusuf Ofanah, l'abbiamo già detto tante volte, è un giocatore che addirittura io per qualche, a larghi tratti o per qualche sfumatura, preferisco addirittura Adedren Rabiot. Perché comunque, cioè, è proprio l'incarnazione. Yusuf Ofanah è proprio l'incarnazione del giocatore che a noi serve lì davanti. Visto che quest'anno abbiamo preso schiaffoni a destra e manca e per larghi tratti abbiamo preso 3 gol anche da tutti, anche da tutti abbiamo preso 3 gol, a noi serve non soltanto sistemare la difesa, ma serve anche qualcuno davanti alla difesa. Bello grande e grosso da mettere lì in mezzo e fare quello che cerca in qualche modo di tamponare. Gli attacchi, e questa cosa la risolvi in due modi. Uno, sistemandoti tatticamente, perché tatticamente, raga, quest'anno, tatticamente, cioè, quest'anno inteso come stagione appena conclusa, è stato tatticamente alcune partite veramente un disastro. E l'altro, invece, l'altro discorso è che non avevamo in rosa neanche centrocampisti con le caratteristiche difensive, quindi dei mediani davanti alla difesa. Ecco, Yusufo Fana, e qua concludo, Yusufo Fana è esattamente il prototipo del giocatore che a noi serve da mettere lì davanti per evitare di prendere ancora gli schiaffoni. E il mio cuore rosso-nero sarebbe molto contento di non prendere più gli schiaffoni. Allora, ragazzi, adesso, per chi mi ha seguito fino adesso su TikTok, grazie di cuore, bella, grazie anche a voi, perché ieri, oltre alle 50.000 visualizzazioni che facciamo ogni giorno, ieri, anche su TikTok, abbiamo sfondato gli 8.100 iscritti al mio profilo, quindi, ragazzi, continuate ad iscrivervi, grazie di cuore a tutti per l'incredibile supporto che mi date ogni giorno, anche nelle live. Fatemi sapere qua nei commenti cosa ne pensate di questa notizia, se voi, Isma, lo dareste via per eventualmente sostituirlo con Yusufo Fana, se mi state guardando YouTube, invece, beati voi, chi è iscritto al canale su YouTube, beati voi, perché adesso andiamo in sigla e abbiamo un altro quarto d'ora di video, dove vi racconto di Menetz, andiamo a parlare di Emerson Royale, vi devo parlare dell'asse tra Milan e Chelsea, perché può darsi che arrivi qualcun altro, infatti vi devo parlare di Choku e Mecha, e poi, per ultimo, andiamo a vedere anche la situazione di Adli, perché, come vi parlavo prima, potrebbe essere uno di quei giocatori in uscita. Bene, ragazzi, iscrivetevi, like a questo video, commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Uno, due, tre, sigla! Oh, Yusufo Fana! Allora, parto da una cosa, ok? Ho letto nei commenti a questa notizia che, praticamente, che cosa si diceva il commento a questa notizia, perché la gazzetta dice che, vendendo Isma Benasser, il Milan potrebbe andare a comprare, a riversare tutti i soldi che prende per Isma, a riversarli completamente su Yusufo Fana. I commenti sotto a questa notizia erano, ah, ma come? Abbiamo sempre detto che il Milan i soldi ce li ha, non ha bisogno di vendere nessuno per prendere nessuno, e adesso viene fuori che dobbiamo vendere Ismael Benasser per prendere Yusufo Fana. Io credo che, al di là di come liberamente ognuno può narrare la notizia, il senso, secondo me, di quello che scrive la gazzetta era il Milan, che, ovviamente, ve lo ricordo, ve lo dico, ve lo ridico ancora un'altra millesima volta, non ha bisogno di vendere nessuno per comprare nessuno, ma, se riesco a vendermi Isma Benasser agli arabi, che gli arabi pagano 40 milioni di euro, anche Mr. Pennello, scusa quanto costa Mr. Penna? 40 milioni, cioè pagano tutti, vuoi non prendere 40 milioni per Isma Benasser? Se dovessimo essere così bravi a vendere Isma Benasser a 40 milioni di euro, vuol dire che tu ne spendi 25 per Yusufo Fana, e ti ballano fuori gli altri 15 da dare alla gente, alla gente di Zirzei Kia, Joran Chan, per chiudere sta benedetta trattativa, ragazzi ho già veramente gli ingranaggi, me li trascino, cammino, e mi trascino dietro le P, me le trascino dietro su sta storia di Zirzei, ragazzi, io spero, come vi ho detto ieri, poi ieri in live ne abbiamo parlato ampiamente, tra l'altro chi non viene in live, raga, non sapete cosa vi perdete, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, più o meno, quando riesco, dalle 17 alle 18.30 siamo in live, a parte che ci facciamo un sacco di risate, ragazzi, ma ieri abbiamo parlato tanto di questa cosa, raga, abbiamo parlato tanto di Zirzei, e abbiamo parlato tanto del fatto che sono ampiamente deluso, dal fatto che mi aspettavo che la punta venisse chiusa, ben prima del raduno che c'è tra pochi giorni, perché comunque tu, comunque, ok, qualcuno ieri mi ha scritto, vabbè ma tanto anche se chiudevi Zirzei non c'era, sì ma Zirzei è andato agli europei, perché si è fatto male quello là, adesso non mi ricordo perché è andato agli europei, che tra l'altro non ha manco giocato, non ha ancora manco giocato un minuto agli europei, ma c'è andato per quello, ragazzi, non perché, per altri motivi, però il Milan, che sapeva da novembre, come vi dicevo ieri, che non avresti avuto Oliviero Bombervero, probabilmente l'attaccante avresti dovuto chiuderlo, non vi dico a febbraio, ma arrivare adesso a fine di questa stagione, cioè praticamente tra un giorno, tra un giorno o due, dovevi avere già chiuso l'attaccante, e vi ripeto quello che vi ho detto ieri, magari l'hanno fatto e noi, e nessuno lo sa, lo scopriremo solo, solo vivendo, lo scopriremo solo dal primo di luglio, non credo, perché sennò le notizie sarebbero uscite, però, visto che il Milan comunque non fa uscire una singola vite, una singola notizia, su tutto quello che sta facendo, non mi sorprenderei che dal primo luglio, il Milan dichiare, oh abbiamo preso Zirzee, abbiamo pagato questo, non lo so, sto ipotizzando, non credo, però non mi stupirei, se dovesse succedere questa cosa, capito, che comunque non esce nulla, e quindi potrebbe anche succedere, che hanno già fatto tutto, non lo so, allora, andiamo su, G. Imenes, perché Imenes, perché come riportato da Fabrizio Romano, quindi ovviamente notizia super certificata, il Real Madrid potrà ricomprare Imenes fino al 2028 per 9 milioni, quindi ricomprarlo, quindi la recompra è di 9 milioni nel 2025 o di 12 milioni nel 2026, nel caso non dovessero riscattarlo, il Milan poi, insomma, potrà eventualmente tenerlo, è giovane, gli va fatta fare esperienza, va fatto giocare, tante cose ragazzi, tante tante cose, tante cose, sono contento comunque, ragazzi, Imenes secondo me è un buon giocatore, deve ancora maturare, però niente di che, niente di stare, cioè non sono qua con le bandierine, però vabbè, a me piace Imenes, poi arriviamo ad un giocatore che a me invece non piace assolutamente, e chi è? Il Milan interverrà anche in difesa, per la fascia destra, il preferito rimane sempre Emerson Royal, che a me non piace, e l'altro obiettivo, è un centrale di difesa, Mancino, ok? Tra l'altro poi vi devo raccontare, di stamattina una roba, adesso ve la racconto, finisco questa cosa, poi vi racconto cosa è successo stamattina, e niente, praticamente, vabbè, Emerson Royal, a me continua a non piacere, continua a non convincermi, al Milan, non lo so se questa trattativa è vera o non è vera, ha delle basi di veridicità, oppure no, non ne ho la più palida idea, io spero che alla fine non venga preso Emerson Royal, ma andremo su altri obiettivi, difesa, centrale di difesa, Mancino, eh sì, io qua su questo canale lo dico da mesi, che il centrale che dobbiamo prendere, deve essere un centrale Mancino, che gioca sulla sinistra, perché in fase di impostazione, se hai un centrale Mancino, fai una giocata, quindi risparmi una giocata, perché gioca di Mancino, ok? Allora, cos'è successo stamattina? Stamattina mi sveglio, sono andato al bar a leggere la gazzetta, prima di andare al bar mi sveglio, vado a bere il caffè, guardo il telefono, e avevo tipo un miliardo di messaggi, perché praticamente questa mattina, la gazzetta dello sport, ha fatto questo articolo, della Valentin Carboni S.P.A., che questa mattina, ha aumentato il proprio valore, ancora questa notte, non è arrivata a 40 milioni, ma oggi, l'aggiornamento, è che la Valentin Carboni S.P.A., le proprie azioni, non verranno vendute, vendute, se non con offerte, superiori ai 40 milioni di euro, quindi quando fino a ieri, erano 40 milioni per venderlo, oggi addirittura, scopriamo, che la Valentin Carboni S.P.A., ricordiamo, ricordiamo a tutti, che è la società, con il più alto balzo, nella storia, dell'economia mondiale, oggi vale addirittura, più di 40 milioni di euro, stamattina, quando mi sono svegliato, mi avete mandato tutti, perché c'era questo articolo, intero sulla gazzetta, una pagina intera, della gazzetta, dedicata a Valentin Carboni, ovviamente, ricordo sempre a tutti, che la mia è ironia, io non ho nulla, assolutamente, contro Valentin Carboni, che è un ragazzo, e fa il suo, ci fa ridere, un po' questa narrazione, dove, Saleha Makers, non vale, neanche 10 milioni, Daniel Maldini, addirittura, 4 milioni, e Valentin Carboni, che è la riserva, di Daniel Maldini, vale 40 milioni, va bene, va bene, ne prendiamo atto, noi non siamo bravi, ragazzi, a fare quelle cose lì, dite quello che volete, ragazzi, ma noi, a livello mediatico, noi cuori rossoneri, noi non siamo bravi, a vendere i nostri prodotti, così, parlo a livello mediatico, noi non siamo bravi, a venderli così, ragazzi, cioè, ci sono giocatori del Milan, che, se avessero, la spinta mediatica, non parlo della gazzetta, sto parlando in generale, ci sono giocatori del Milan, che se avessero, la spinta mediatica, che magari hanno anche, hanno altri giocatori, che arrivano da altre parti, noi potremmo venderli, cioè, ragazzi, prendete, Sala Makers, Sala Makers, Bologna, Bologna che va in Champions League, ha giocato, ha fatto dei gol incredibili, e come si fa a dire che non vale neanche 10 milioni, se quello mi vale 40, cioè, se Valentin Carboni vale 40, Sala Makers ne vale 50, cioè, Valentin Carboni ha fatto due gol, 19 presenze in Serie A, in tutta la sua carriera, ha fatto due gol, Sala Makers quanti gol ha fatto in Serie A, quante partite ha fatto in Serie A, cioè, che poi Valentin Carboni sia un buon prospetto, va bene, ma a noi manca quella roba lì, ragazzi, noi non riusciamo a far sopravvalutare, passatemi il termine, a far sopravvalutare i nostri ragazzi dall'opinione pubblica, è vero, fateci caso, i nostri sono sempre delle scartoffie, sì, Sala Makers, sei migliori, Daniel Maldini, dagli due, dagli due, scrivi che vale due, capito, è un po' quella roba lì, Asse Milan-Celsi, come riportato, bla bla bla, riparte l'asse Milan-Celsi, ci sono diversi giocatori interessati, tra i quali anche Ciocque, Mecca, magari ci dedico domani un video o meglio, comunque, il Milan continua a trattare con il Chelsea, l'acquisto o il prestito di Ciocque Mecca, il valore, il giocatore ha un valore tra i 15 e i 20 milioni di euro, però il Milan potrebbe prenderlo con la pre, vabbè, vabbè, sì, vediamo ragazzi, vediamo, 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 bene, siamo in chiusura ragazzi, allora, fatemi dire due cosine prima di chiudere, allora, grazie, grazie, grazie veramente ragazzi, avete visto che sono tornato a fare le live praticamente, quando posso, perché non vado a prendere il bambino, quando posso tutti i giorni, dalle 17 alle 18 e 30, e raga, volevo ringraziarvi, perché comunque stanno andando benissimo, l'appoggio che mi date ragazzi è tantissimo, sia sulla piattaforma rossa, qua su YouTube, siete in tantissimi sulla piattaforma viola, in tantissimissimi, su TikTok ragazzi, sfondiamo i 10 mila like ogni volta su TikTok, quindi ragazzi, grazie veramente di cuore a tutti, e, boh, grazie, non so, più di così non so cosa dirvi, continuate a seguirmi, chi di voi, chi fa parte di quel 70, passa per 100, e che guarda i miei video tutti i giorni, non è iscritto al canale, qua su, su YouTube, ragazzi lo faccia, perché almeno arriviamo a 25 mila, invece sulla piattaforma viola, per chi non mi seguisse lì, il canale si chiama Lorenzo Lolo Official, e anche si chiama nello stesso modo, anche su TikTok, il mio profilo si chiama Lorenzo Lolo Official, e non faccio nient'altro che prendere i video, l'inizio dei video di tutti i giorni su YouTube, e carico i primi 3-4 minuti dall'altra parte, e così poi li portiamo qua da noi, e li facciamo entrare nella famiglia dei milanisti official su YouTube, bene ragazzi, grazie di cuore, buon sabato a tutti, questa sera alle 18 c'è l'Italia, vediamo, vediamo, non ho nessun tipo di aspettativa sull'Italia, sinceramente, perché, vabbè, vediamo cosa succede, ciao a tutti, forza mille, ne vado nel clinter, ciao! Ciao a tutti!